Sindaco, è arrivata la risposta alla sua domanda in merito agli assessori passati a Fratelli d'Italia che hanno ribadito il loro appartenere al progetto civico. Le chiedo, è soddisfatto? Sì, io l'ho chiesto subito, anche perché era arrivata questa notizia, ne sapevo anche poco, diciamo niente. Sarebbe stato opportuno comunque che il Sindaco venisse informato prima, perché poi è vero che forse loro non hanno scritto, ma insomma comunque il partito poi ha fatto il primo articolo dicendo che la giunta a Romandini aveva all'interno due assessori di Fratelli d'Italia, ma insomma non sarebbe stato giusto perché noi siamo stati eletti dal 60% dei sandeggidesi che hanno detto che hanno sposato quel progetto che era un progetto civico, una giunta e un'amministrazione di tipo civico, i partiti tutti all'esterno, erano tutti dall'altra parte e insomma ho chiesto loro di fare un passo indietro, perché non potevo accettare una cosa di questo genere. Sarebbe fallito proprio comunque il concetto di partenza. Un progetto che i sandeggidesi hanno apprezzato attraverso quella votazione, abbiamo avuto come dicevo quasi il 60%, ho chiesto di fare un passo indietro, l'hanno fatto, sono soddisfatto perché poi devo dire che non hanno mai smesso di lavorare, insomma questa cosa doveva essere chiarita. Ma la loro appartenenza al partito di Giorgio Meloni è stata praticamente revocata o comunque pur appartenendo a Fratelli d'Italia hanno voluto ribalire che la politica non c'entra niente con il vostro progetto amministrativo? Sì, poi se l'avessero fatto sarebbe stato meglio, io gliel'ho detto però come ho detto nel mio precedente comunicato che ho scritto e ho mandato alla stampa, avevo detto che io mi attendevo un passo indietro, se l'avessero fatto sarebbe stato meglio, però ho detto pure in quel mio comunicato salvo il fatto che ognuno comunque è padrone di se stesso e di scegliere il partito che vuole. Per Sant'Egidio, amministrare Sant'Egidio credo è anche a livello superiore, servono le persone, ci vuole la voglia di amministrare, c'è la voglia comunque di distribuire se ci sono delle risorse equamente sul territorio senza pensare alla politica perché la politica è un'altra cosa. Capitolo chiuso? Sì, ritengo di sì, è venuto fuori solo a sei mesi dall'insediamento della giunta Romandini, va bene, non è un problema, però ho detto che questa cosa non deve ripetersi perché se la politica vuole riappropriarsi di Sant'Egidio, benissimo, ma noi la sfrutteremo e la utilizzeremo soltanto per portare risorse come devono essere date anche ad altri comuni per portare risorse a Sant'Egidiesi.